Non vede l'ora di tornare in azione Sandro Dell'Aniello. Il coach dell'UniEuro è convinto che la strada maestra per il ritorno alla normalità sia rappresentata dalla necessità di giocare quante più partite possibili. Io ho avuto la fortuna quando giocavo di giocare sempre nelle coppe, quindi giocare sempre tre volte a settimana e non c'è paragone. Noi sportivi, giocatori, parlo a nome dei giocatori, parlo a nome di tutti noi, sicuramente quattro partite al mese le consideriamo poche potendo fare una considerazione di questo tipo. Ci piacerebbe sicuramente giocare molto di più. In ogni caso la nuova UniEuro saprà farsi trovare pronta alla ripresa delle operazioni. Coach Dell'Aniello sposa in toto le scelte compiute dalla dirigenza in sede di mercato. Io sono contentissimo perché oltre ad aver riconfermato e preso giocatori già affermati, abbiamo preso tre giocatori under 26 che sono assolutamente in ascesa nella loro carriera ma che hanno già avuto esperienze importanti alle loro spalle nel recente passato. Vedi il campionato scorso di Rodriguez o vedi l'A1 che hanno già fatto Bolpini e Landi giocando, non giocando 40 minuti ma giocando. Di questo io sono molto contento. Come giocherà Forli? Anche in questo caso il tecnico toscano ha le idee chiare. Probabilmente faremo anche qualcosa di nuovo perché abbiamo quest'anno tre o quattro giocatori che veramente proprio dal punto di vista pratico e non solo a parole possono ricoprire più ruoli e possono occupare in campo diverse posizioni e quindi sicuramente specialmente in attacco potremo vedere qualcosa di diverso.